Forse qui mancano i comfort della centralina, ma è sicuro, e abbiamo preso precauzioni contro eventuali attacchi a sorprese. Ahà, certo. Per tutto questo casino, il lavoro non ti mancherà di certo. Ma senti, come vi divertite qua in questa fogna? Ascoltatemi tutti, vi presento, Professor. Ciao. Si è occupata della centralina con Deacon. Sono io. Adesso è un agente a tutti gli effetti. Conto su di voi per insegnarle i trucchi del mestiere. Grazie a tutti. Grazie di darle il benvenuto. È tutto. Non è una strada semplice, quella che hai scelto, ma potrai sempre contare sul nostro agito. Va bene, ti ringrazio, Desdemona. Anche se effettivamente Maxon non piacerebbe questa scelta. Dottore, ecco il suo prototipo. Desdemona mi ha detto di consegnare questo. Hai fatto davvero un ottimo lavoro, ma non si tratta di questo. Sei senza addestramento e non sappiamo quasi nulla su di te. Ma Des ti ha aperto le porte del quartiere generale. Senti, ti ho appena fatto un favore enorme. Non puoi accettarlo e basta. Ma ormai è cosa fatta. Dato che sei qui, tanto vale metterti al lavoro. Ah beh certo, come no. Dai, cosa ti serve? Dimmi che cosa ti serve. Uno dei nostri agenti, il vecchio Stockton, ha bisogno di aiuto con un sintetico fuggiasco. H222. Come sempre il quartiere generale si accolla ai problemi che gli altri non si prendono la briga. Ovviamente. Quel vecchio paranoico non ha voluto spiegarci niente. Dovremo recuperare le informazioni da un nascondiglio. Forse è un buon motivo per essere paranoico. Forse è buoni motivi per essere paranoico. Può darsi, ma non sarebbe la prima volta che ci fa schierare degli agenti per questioni del tutto secondarie. Se non peggio. Ah beh. È una sorta di cassetta postale indicata da un segnale. Noi di solito comunichiamo così. Perciò tieni sempre gli occhi aperti. Va bene, farò attenzione. Quando lo contatterà, Stockton terrà la bocca cucita se non riceverà subito il controsegno corretto. Ovvero? Il contatore Geiger è il segno attuale, mentre il mio è nel negozio è il controsegno. Va bene, già la sapevamo. Sistemerò tutto, non ti preoccupare. Sistemerò tutto. Fidati di me. Sai una cosa? Mi hai quasi convinto. Stockton è un grosso commerciante di Bunker Hill. Il nascondiglio è là nei dintorni. Usa la galleria di fuga sul retro per arrivarci più rapidamente. Perfetto, va bene. Dai, su. Non fare così l'antipatico. Vedrai che ti piacerò. Ehi, Tom, ho sentito che crei armi. Lo scanner dice che sei a posto. Urrà, niente cimici. Certo, Jason. È magnifico. Sì, è magnifico. Fammi vedere che cos'hai. Mostrami cos'hai. Dai un'occhiata. Arma speciale di Tom Tuttofare. Fa estremi danni ai membri dell'istituto. Però, carina. Certo, è un fucile da 308 normalissimo, però... Wow, molto, molto bella. La compro. Uh, il manuale dell'IAR. Sì, sì. Fantastico. Questo mi servirà per una modifica. Ciao, micio. Ma che bello che sei tu. Deacon, ma sei mago tu, eh? Non sei solo uno che cambia faccia. Abbiamo un po' di persone folli, frizzanti ed eclettiche. E ora anche tu ne fai parte. A proposito, se non ti dispiace avere una spalla, accendiamo il motore e viaggiamo insieme ancora un po'. Eh, sono qui per quello. Che aspettiamo? Andiamo? Sono più che pronto. Comunque, prima di occuparci di questo sintetico, occupiamoci della nostra robottina. Ehi, ti sei messo la parrucca. Stai bene così. Il nascondiglio è qui. Good neighbor è qui. Possiamo fare entrambe le cose. Deacon, quando è che ti sei cambiato? Oh, porca miseria. È possibile che ogni volta che mi giro questo cambia vestito. Ecco la cassetta della posta segnata dai Railroad. Oh, mailurca. Niente più mailurca. Deacon, quando cavolo è che continui a cambiarti di vestito tu? Scegliene uno. Quanto ci fai che se adesso mi giro l'ha cambiato di nuovo? Ora dobbiamo incontrare il vecchio Stongson a Bunker Hill. Sì, però avevo promesso prima di andare da Curie. So che hai percorso la pista della libertà. Cosa sei? Una specie di, come si dice, amante della storicismità? Ma tu cosa ne sai? Ma tu sei tutto di tutta la mia vita? E tu hai cambiato di nuovo vestito, Deacon. Avrà cambiato di nuovo vestito, Deacon? No, stavolta no. Dottoressa, salve. Mi scusi il disturbo. Sono venuto di nuovo a trovarla. Dottoressa, la mia amica ha bisogno del tuo aiuto. Oh, non sono un meccanico. Cosa potrebbe mai volere da me? Eh, qualcosa di molto specifico. Eh, lo so. È una richiesta strana, però può farlo, no? Curie non è un semplice robot. È una mia amica. Curie possiede parecchi dati di ricerche prebelliche. Ma non può continuare il suo importante lavoro da robot. Perché no? I miei sistemi robotici hanno delle limitazioni fondamentali. Non possiedo l'ispirazione degli umani. Non ho mai preso in considerazione di fare una cosa del genere. Beh, sarebbe la prima volta, no? Il problema è interessante. Il trasferimento dei ricordi non sarebbe difficile. Visto? È fattibile. Siamo spesso da cervello a computer e viceversa. È così che funzionano le capsule. Bene. La sua personalità? La robotica e la programmazione aggiuntiva del processo decisionale? Penso che quello verrà deciso dal corpo, no? Non saprebbe come gestirle. Un cervello sintetico, invece, beh, è già qualcosa a metà strada tra i due. Beh, si può fare. Quindi è possibile. Quindi è possibile. Altamente probabile. Ci serve solo un sintetico. E in questo potrei aiutarvi io. Benissimo. Ho già lavorato sui sintetici. E questo lo sappiamo. Ho presentato le loro memorie, in modo che potessero vivere liberi dall'istituto. Ma la procedura non è sempre un successo. Se qualcosa va storto, possono rimanere in stato catatonico. Vivi, ma privi di cognizione. E c'è qualcuno in questo stato? Una guardiana che si occupa di un sintetico con cervello morto. Se accetterà, potremo provare a trasferire la coscienza della tua amica. Perfetto. È da fare allora. Voglio provare. Vorrei provare. Ci serve soltanto il consenso della sua guardiana. Dammi un giorno per mettermi in contatto. Sono tipi cauti, ma credo che mi ascolterà. Va benissimo. Io resterò con la dottoressa. Se tutto va bene, voglio essere pronta all'operazione. Va bene, Kyuri. Resta con lei. La sua guardiana deve rispondermi presto. È una che non perde tempo. Va bene. Ti ringrazio, dottoressa. Deacon. Ehi, vieni qui. Kyuri, stammi bene. Spero che questa guardiana approverà. Vedrai che andrà tutto bene. Hancock chiude un occhio sulle nostre attività. Questo rende Good Neighbor un posto relativamente sicuro. Beh, Hancock chiude molti occhi, effettivamente. Vieni, Deacon. Abbiamo un problema da risolvere. Se qualcuno costruisce difese del genere, avrà sicuramente un buon motivo per farlo. Ne sono sicuro, Deacon. E tu hai cambiato di nuovo vestito. Buongiorno. Sto cercando un contatore Geiger. Qualcuno ce l'ha? Oh, salve. Per caso, hai un contatore Geiger? Il mio è nel negozio. Il mio è nel negozio. Sei tu? Mi aspettavo qualcuno di più armato. Porca troia, vuoi vedere il mio armamento? Tu conosci i miei amici, eh? Esattamente. Esattamente. È sempre bello stringere nuove amicizie. Certo, Skatman. Una nuova recluta, eh? Ti basti sapere che questa è la prima fermata per tutti i nostri... Sei un commesso Amazon? Per noi è cruciale garantire la sicurezza e impedire qualsiasi ritardo nelle consegne. Eh beh, certo, se no ci mandano le recensioni negative. Un commerciante deve essere affidabile, d'altronde. Un commerciante deve avere una rete logistica affidabile. Giustissimo. Ho un pacco che è fermo qui da troppo tempo. Aha, e devo andare io a consegnarlo. Prego di fare la consegna in un posto qui vicino. Ma i predoni complicano le cose. Magari potreste... Non dire altro, ci penso io. Ho capito. Devo facilitare la consegna. È in programma una consegna notturna. Sbarazzati di quegli scocciatori entro l'alba e potremo sbrigarcelo già stanotte. Perfetto. A presto. Così la giornata passerà. Deacon? Il posto sembra sicuro, più paranoico diventa. Eh, immagino. Tu che cosa vendi? Vendi tutte le sfumature della distruzione. Ah, è cricket, quella dell'altra volta. E tu chi sei? Deb. Compro tutto ciò che non ti serve e vendo tutto ciò che ti serve. Giustamente. Ho qualche minuto libero. Tutto viene venduto così, come lo vedi. Va benissimo. Amico dell'abitante della zona. Quando sei sotto effetto di cibo o di droga, quest'arma non aree in culo e fa danno bonus ai ghoul e agli animali. Interessante bonus. Grazie, Deb. E ora, Deacon, è il momento di andare a fare un po' di lavoro sporco. Vediamo. Il luogo dell'incontro è qua vicino. È il momento di rendere più sicura una zona. Fermo lì. Preso. E sono anche salito di livello. Deacon, ti devi levare dalle balle, però, eh. Fermo lì. Preso anche questo. Dio mio, vi faccio il culo a tutti. E tu eri anche un paiero, tra l'altro. Guarda un po' le casualità della vita. Le munizioni in più servono sempre. È vero. Servono sempre le munizioni. Ah, ce n'è ancora uno. E tu smetti di cambiare vestito, Deacon. Stai buono. Che ripresa incredibile questa che è stata. Peccato non aver fatto la foto. È saltata la testa. Ve l'avevo detto. La criolancia congelante è veramente l'apice della dualità. Allora, siamo vicini alla zona. I nemici non devono essere troppo lontani. Esattamente. Eccoli là. E niente, ci hanno visto. Peccato. Vieni qui. Che ti congelo un po'. Dai, com'è fatto a mancarlo. Ah, dannazione, è leggendario questo. Ancora? Per poco, però, eh. Dio mio, che male. Eh, c'hai ragione, non può morire così. Non prima di avermi dato l'arma leggendaria. Stai ferma. Ah, dannazione, riuscite a sfuggire. Stai lì, buona. Queste riprese con la criolancia sono meravigliose, veramente. Bello. Un rapid railway rifle. Beh, questo mi mancava effettivamente. Chissà se ce n'è uno unico. Stai lì, che ti congelo. A dovere. Beh, direi che adesso è tutto a posto, no? Avevano problemi con tre stronzi. È incredibile. Ah, siete già arrivati. È incredibile. Sei contento? Sembra tutto tranquillo. Perché lo è? Ciao, H. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti, H2. Un'altra persona felice di conoscermi. Spero di farci l'abitudine. Tranquillo. Ma... Ah, quell'era Deacon. Aspetta, dimmi che accendi la luce. L'ha accesa veramente. Devo andare. Occupati di H2. Presto arriverà qualcuno. Va bene, Stockson. Fai attenzione, eh. Ma... Cioè, un altro vestito non ce l'avevi, Deacon. Sei vestito uguale a lui. Sei tu l'uomo che dovevo aspettare? Non sparare. Non sparo, tranquillo. Sì, sono io. Hai seguito la pista della libertà e ripulito la centralina. Sono felice di averti trattato. Grazie, Igrise. Hai il contatore Geiger? Hai un contatore Geiger? Ah, certo. Il mio è nel negozio. A posto? Bravo, ragazzo. Ora vediamo il nostro amico. E' proprio là dietro. Tutto ok? Un po' sbattuto. Ma non sono mai stato meglio. L'altro uomo mi ha detto di non parlare troppo. Ottimo consiglio, H2. Ti servirà un vero nome e un nuovo volto. Ma tutto a suo tempo. Dietro di me ci sono altri predoni. Temo che ci servirà qualche aiuto in più. Vai tranquillo, ci penso io. Altri predoni? Nessun problema. Voi bruti del quartier generale sapete sempre il fatto vostro. Eh, lo so, lo so. Sono ben armato io. Gran parte dei sintetici appena fuggiti si nascondono là dentro, in attesa di uscire dal pomo. Se volessi vendervi alla confraternita, queste sono buone informazioni. Mettiamoci all'opera. Mettiamoci all'opera. Vi faccio strada. Bravo, ragazzo. Mettiamo un'arma un po' più veloce, perché non sappiamo chi incontreremo. Ad esempio, spacco la faccia a tutti appena li riesco a prendere. Ecco qua, questo è il leggendario che era quello che mi interessava e non aveva niente di leggendario, come al solito. Ah, e quando mai non hanno le torrette sti predoni, eh? Usiamo un lancio a granate. Dannazione. Come hanno fatto a prenderla al volo? Beccati questo. Preso. Aspetta, ci penso io. Cioè, non bastavano i rider, c'erano anche... Il cavolo di super mutanti. Presa. Dov'è? Beccati questo. Ecco fatto, niente più super mutanti ora. Beccati questa in faccia. Ce n'è ancora uno? Sì, ce n'è ancora uno. Ma non lo vedo neanche io. Ah, eccolo là in fondo. Ed è pure leggendario, cioè, pensa un po'. Spero che abbia droppato qualcosa di buono. Un reaper sanguinante, tra l'altro. Ottimo. Presto sarà tutto finito. Ah, tu ti nascondevi, eh? Forse era mai io se continuavi a nasconderti. E non sono ancora finiti, è incredibile. Quanta gente che c'è da ste parti. Madonna mia, ma... Alla faccia di... Ci sono un po' di rider dietro di me. C'avevi un esercito che ti inseguiva, insomma. Ma questo era pure senza una gamba. Una mini nuke, che bello. Forza dai, fai strada. Guarda, un altro ingresso per le fogne. Certo che ce ne sono di tombini qui, eh? Ah, è vero, siamo saliti di livello. Dobbiamo prendere fuciliere. Ci serve per aumentare il danno del nostro fucile. A proposito di fucile. Non abbiamo ancora provato il Thompson esplosivo. Ecco qua. Siamo arrivati? Eccoci arrivati. Perfetto. Ordinaria amministrazione per voi agenti, eh? Eh, una giornata come tante altre. Fa parte del servizio. Credo che alla fine mi piacerai ancora più di Glory. Se hai bisogno di cibo, munizioni o di riposare un po', prendi l'ascensore fino a Tycoon. Fa come se fosse a casa tua. Va bene, ti ringrazio. Devo occuparmi di H2. Ci sfede. E ovviamente è caduto un altro vertibird, vero? Sai che novità. Dai, su, salite anche voi. Che è successo? Però vi ringrazio tutti quanti. Di nulla, H2. Uela, bel posto questo. Immagino che qui facciate le operazioni facciali. Caro vecchio Tycoon, I-Rise è uno dei migliori. Eh, lo vedo. È proprio bello questo posto. Molto meglio di quella fogna in cui siamo noi. E c'è un rattotalpa morto. Uh, due quantum. Oggi sì che è una bella giornata, allora. E ho anche trovato una rivista. Ehi là, caso risolto. Gli agenti vanno e vengono a tutte le ore. La questione di H222 è stata risolta. Sì, ma stai fermo. Penso proprio di sì, ma c'è ancora molto da fare. Eh, lo so. Dopo la caduta della centralina abbiamo perso il contatto con due rifugi. Devi andare a controllare Augusta. Ho capito, però. Un attimo. Cioè, non è che posso fare tutto assieme, eh. Vabbè, meglio farsi una dormita. Quella cosa che frutua nel cielo ha causato un'ondata di panico. Gli alieni esistono davvero? Basta così. Quella cosa si chiama Pridwen. Ed è un mezzo della confraternita d'acciaio. Lo sappiamo, Desdemona. La confraternita d'acciaio è un'organizzazione formidabile, molto avanzata. È qui per distruggere i sintetici. Fai girare la notizia. La confraternita è nostra nemica. Azz. Non c'è alcuna possibilità di avere buoni rapporti con loro. Tom, tutto fare sarà a capo di un piano a prova di bomba per affrontare la confraternita. Nome in codice, Lampo Rossi. Meglio che non lo sappiano allora che ho a che fare con loro. E allora, l'initieremo a controllarli e a tenerli lontani dalle nostre operazioni. Continuiamo a concentrarci sull'istituto. Bene, avete tutti un compito da portare avanti. Al lavoro. Eh, eh sì. Comunque sì, Tom, gli alieni esistono e io l'ho ucciso uno. Mi hanno parlato del volto 81. C'è stato qualche problema? Tipo quarantena o roba simile? Tieniti a debita distanza. Te lo ripeto, come cacchio fai sapere tutte queste cose tu? Dottoressa, è tutto pronto per l'operazione? Eccomi qua, dottoressa. Salve. Quindi sei tu che vuoi mettere un cervello di robot dentro G519? Ah, ma sei tu, Glory. Sintetico. Dovremmo proteggerli. Glory voleva dei nuovi ricordi. Sapeva che la sua personalità sarebbe stata cancellata. Questi sono dei ricordi diversi. Forse migliore... Eh, speriamo. Forse dovrei lasciarla andare. Però il suo sacrificio darà una nuova vita a un'altra persona. Il suo sacrificio concederà... O meglio, a un'altra entità a questo giro. Credo che le piacerebbe. D'accordo. Faldo. Procedi prima che cambi idea. Curi. Iniziamo. Curi. Termina tutti i processi... Devo occuparmi di questo. Affermativo. Vai, Glory. Ci vediamo al quartier generale. Ho accesso alle memorie della tua amica. C5 è già pronta. Non dovrebbe volerci molto. Sì, ci siamo. Addio Curi Robot. Io... Io... Il mio petto... Respira. Dai con calma. È una funzione autonoma. Lascia che il tuo corpo faccia ciò che... Glory, ok. Grazie, puoi andare ora. Mi sento... Mi sento strana. Eh, lo so. È normalissimo. Riesci a sentirmi? Qual è il tuo nome? La mia denominazione è... Contagions Vulneria. Generability, Robotic, Infermery, Engineer. Oppure Curi. Ah, ah, corcia tutto. Mi hai fatto preoccupare. Mi hai fatto preoccupare. Non preoccuparti, mi sento meglio. Meno male, dai. Molto bene. Ora testiamo alcune funzioni cognitive. Quanto fa? Uno più due. Tre. Se ti lanciassi addosso una palla di basketball, che cosa faresti? Mi sposterei. Brava. Pensa un ricordo intenso. La prima cosa che ti viene in mente. Parlamene. Il dottor Burrow era molto vecchio. Era l'ultimo scienziato... Oh, povero dottore. ...na mia sezione del Volt 81. Era nel suo letto. Molto debole. Mi ha detto... Curi, devi... E poi è morto prima di finire. Mi dispiace. Sento qualcosa di strano dentro di me. Che cos'è? Tristezza. Forse provi dolore... ...per un amico. Questa unità non ha amici. Ma... Ecco... ...mi si stringe il petto a pensare al povero dottor Burrow. Io non sono tua amica, al Chiori. Mi... Mi offendi così, eh. Credo che la tua nuova amica avrà bisogno di tempo per adattarsi. Eh, lo immagino. Potrebbe aver bisogno del tuo aiuto durante la transizione. Non si preoccupi, ci penso io. Calmi tutti e due. Uno alla volta. Che palle. Non ho capito nessuno dei due discorsi ora. Chiori, che stai facendo? Ascolta. G5-19 ne ha passate tante. Ma era tenace. Resistente. Spero... Spero che qualcosa di lei resti ancora. In caso contrario, fai in modo che ne sia valsa la pena. Assolutamente, Glory. Con le conoscenze scientifiche di Curie, probabilmente aiuterà molte persone. Già, lo spero. Vai tranquilla, sarà così. Ma avrebbe voluto che la sua morte avesse un senso. Meglio che morire in un campo di battaglia. Dai, ci vediamo, Glory. E tu sei seduto sul cavolo di divano. Ricordati, respira. Continuo a pensare che, se me lo dimentico, niente più, Curie. E all'improvviso tutte queste cose emozionanti. C'è qualcosa di nuovo. E se mi distruggessero il braccio? Ora non è così semplice riparare. Purtroppo no. Ti aiuterò io, non ti preoccupare. Non preoccuparti. Ti aiuterò io. Questo mi fa sentire... ...meglio. Calma. Io... ...me la caverò. Comincio ad abituarmi. Presto, spero. Abbi pazienza. Sono certa che la mia ricerca avrà una svolta con questo magneto... Ne sono sicuro, Curie. Forza, allora. Andiamo a cambiare il Commonwealth. Sarga la sicure. Grazie. Grazie a tutti.